benvenuti amici del canale in questo nuovo video facciamo questo video per informarvi che in questo momento c'è un brutto temporale qui in zona proprio sulle nostre teste infatti qui come possiamo vedere l'impianto fotovoltaico sta producendo quasi niente perché comunque il cielo è abbastanza coperto abbiamo smetta a fuoco 120 119 volt volt dalla dai pannelli perché comunque c'è qui ce l'ho coperto hanno fatto pure dei fulmini ci sono state appunto appunto dei fulmini poco fa qua stiamo prelevando dalle batterie c'è sempre qualche utenza attaccata dentro casa quindi essendo che la produzione è poca ovviamente preleva dalle dalle nostre batterie che prima c'è stato il sole ora si è il cielo si è coperto c'è stato un temporale e con con dei fulmini pure quindi parlando appunto dei fulmini io vi consiglio questo sto facendo questo video così al volo magari per consigliarvi che questa 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 idea questo pensiero mi è venuto proprio in questo momento perché comunque abbiamo i fulmini e il periodo è di marzo quindi è facile che abbiamo questi questi temporali sporadici con effetti di fulminazione è abbastanza pericolosi per i nostri impianti per le nostre utenze di casa allora noi nel nell'impianto si si usa mettere gli scaricatori cioè che se un fulmine colpisce i nostri pannelli loro diciamo che non non entrano in circolo nel nel nostro inverter e dovrebbero fermarsi qui appunto su questi scaricatori di di fulmini di tensione quindi questi qua sono dei 600 vdc e comunque un fulmine non so se verrebbe bloccato veramente da questi da questi apparecchi non lo so un fulmine è meglio che dico sempre di che non capita a nessuno che viene colpito un impianto dei dei pannelli fotovoltaici o qualsiasi altro dispositivo elettrico da un fulmine perché comunque dopo un evento del genere non so se deve essere fortunati a non aver subito danni appunto e qui come vedete questi qui lo possiamo vedere che sono buoni in condizioni ottime quando all'interno si vede la questo tipo di di colore verde quando diventano rossi ovviamente sono sono andati perché il fulmine ha interrotto lì il collegamento interno ma io penso che ce ne accorgeremo anche perché sì ci sarà un danno anche sui fili della discesa che entrano su questi dispositivi quindi ce ne accorgiamo anche se non vediamo appunto il colore rosso qua qua sopra ora quello che dico io non è che possiamo far più di tanto c'è staccare non so la discesa dei pannelli perché magari non entra nell'inverter e diciamo servirebbe a ben poco magari siamo fuori casa non lo possiamo fare alcuni consigliano di mettere a massa i pannelli ma io lo sconsiglio di mettere a massa i pannelli cioè mettere a massa collegare un filo di massa alla carcassa dei pannelli cioè all'alluminio io lo sconsiglio perché comunque noi stiamo tra virgolette a parer mio ditemi qualcuno magari se sbaglio stiamo creando una strada appunto perché i fulmine come sappiamo vogliono scaricare a terra stiamo creando appunto stiamo spianando una strada per poter far scaricare i fulmini dalla carcassa dei pannelli appunto a terra magari è una strada più facile che loro potrebbero intraprendere per scaricare a terra quindi evitiamo io dal parer mio di mettere un filo nella carcassa di alluminio dei pannelli delle cornice e farla inserirla come come massa a terra appunto con una punta nel terreno ma io direi di evitare perché appunto spianiamo la strada per per i fulmini secondo la mia teoria infatti come si può vedere diciamo che il temporale sta passando e leggermente la produzione sta aumentando vedete eravamo su neanche 20 watt adesso è aumentata già intorno ai 200 ecco qui sono salito qui sul terrazzo per farvi vedere i pannelli sono stati colpiti da un intenso temporale poco fa ancora sono tutti bagnati come vedete il cielo non promette bene quindi io quello che sconsiglio è comunque la carcassa che vedete in alluminio alcuni la collegano a massa nella punta a terra ma io lo sconsiglio perché magari se viene attirato un fulmine sulla cornice dei pannelli noi creiamo appunto la strada più facile per arrivare a terra sì ok scarica a terra ma non è detto che quando colpisce un fulmine scarica solamente a terra ma può entrare appunto nell'inverter creando magari dei danni irreparabili quindi noi evitiamo proprio di far colpire il fulmine alle nostre ai nostri pannelli che è meglio meglio così quindi magari essendo che troverebbe la strada facile per arrivare a terra aiuterebbe ad essere colpiti così da un certo lato senza una massa a terra che poi comunque già il piano qui dove sono messi hanno una massa diciamo tra virgolette a terra perché c'è tutto il telaio e quindi meglio lasciare questa così com'è ok amici io vi ringrazio di aver visto anche questo video e ci rivediamo magari in un prossimo video con altri nuovi consigli